Ehi, ma dov'è Betty? Ciao, Summer! Ma non sei ancora pronta per il picnic? Quale picnic? Il picnic di more! Andremo in gita per raccogliere le more più buone che tu abbia mai assaggiato! E dimmi, Betty, che cos'hanno di speciale queste more? Oltre a essere super deliziosi! Sono davvero grandi e crescono in un posto molto speciale, in mezzo a un labirinto! È tutto pronto per il picnic! Ottimo lavoro, amici! Ciao, Summer! Ciao, Betty! Ciao, Lucy! Insegno a nuotare i miei anatroccoli! Su, Anna! Coraggio! Vieni qui a raggiungere i tuoi fratellini! Super diocchi in azione! Conosco tutti i trucchi per far crescere le piante di fagiolo Terriccio speciale, acqua minerale e anche concime Adesso mancano soltanto i fagioli perfetti! Wow! Sono enormi! Congratulazioni, Pico! Sono davvero grandi come i fagioli di Jack! Ciao, Mary! Buongiorno, Todd! Ma che bei fiori! Grazie, Summer! Sono fiori di lavanda! Sembri davvero di buon umore quest'oggi! E come? Sto aspettando una grande consegna di miele! Senti? Arrivano le api! Guardate! Tadà! Bravissimo, Todd! Però siamo solo all'inizio! Così non ce la faremo mai! Ci serve un po' d'aiuto! Ho un'idea! Conosco dei grandi lavoratori che saranno felici di aiutarci! Cu un'idea! Grazie per la visione Ma che succede, Todd? È il giorno della tosatura E questo agnellino è solo spaventato per la sua prima tosatura Cos'è il giorno della tosatura? Il giorno in cui rasiamo il manto spesso e sparco delle pecore Così rimangono pulite e in salute Non ci piace essere tosate Guarda quel rasoio È così spaventoso Il tuo rasoio è davvero spaventoso, Todd Ma queste pecore hanno proprio bisogno di essere tosate Vedrai che saranno felici dopo che avremo tolto tutta quella lana pesante Alle pecore piace essere tosate Sarà divertente, vero piccolina? Shippy, è il tuo turno, vieni! Il solito taglio? Numero uno o numero due? Vada per il primo, perfetto! Povera Shippy, Todd sa fare solo il numero uno! Che vi dicevo? Ora Shippy è più pulita e leggera Il numero uno va sempre alla grande! Ha un aspetto orribile! Chi è la prossima, ragazzi? Sono scappate tutte! Era un taglio perfetto! Segui le avventure dell'Allegra Fattoria su YouTube!